Sì, credo che la robotica sia anche un settore da ragazze, perché comunque sia coinvolge la progettazione, la realizzazione di qualcosa a cui possono arrivare anche le ragazze, come avviene nel mondo universitario, ma anche scolastico, si interessano sempre più a questo settore, al settore tecnologico, che è in continua espansione e quindi è una novità, può essere un punto di svolta, di un approccio nuovo. Che può coinvolgere tutti, comprese le ragazze, perché no, tanti vengono da una realtà STEM e trovo molto interessante, accattivante e stimolante cimentarmi in questo settore, così in evoluzione, in crescita e sempre molto attuale.